Le indagini sono state molto lunghe e complesse, durate circa due anni. Ora sono state chiuse, sono sette coinvolti. Nell'arco di poche settimane due gruppi familiari entrarono in contrasto di sidi che vennero affrontati soprattutto con le armi. Rimasero feriti il 47enne Vincenzo Trubbiel e il 31enne Antonino Raitano, quest'ultimo raggiunto da colpi di pistola che gli causarono diverse conseguenze. Trubbiel invece venne colpito ad un piede, i carabinieri e i PM della procura hanno ricostruito gli inizi di uno scontro che rischiava di diventare ancora più cruento. Iniziò in base a quanto riscontrato da alcuni furti. I Raitano e Trubbiel si accusarono a vicenda anche con minacce e ritorsioni fino alle armi. Una pistola nella disponibilità di Antonino Raitano e del fratello Ruben Raitano spuntò durante un primo tentativo di chiarimento. Vincenzo Trubbiel e i figli Giuseppe Trubbiel e Rosario Trubbiel cercarono di disarmare i rivali. Sarebbe partito un colpo che raggiunse al piede il 47enne Vincenzo Trubbiel. Nella concitazione i Trubbiel sarebbero riusciti ad impossessarsi della semiautomatica. Per gli investigatori sarebbe stato il 23enne Rosario Trubbiel a sparare contro Antonino Raitano. La pistola sarebbe poi stata nascosta nell'ovile della famiglia. I carabinieri durante le indagini con perquisizioni e controlli riuscirono a ritrovare l'arma. I fratelli Raitano, pare spalleggiati da un altro coinvolto, il 38enne Giacomo Tuminelli, non avrebbero fatto attendere la loro risposta. Sarebbero stati loro a sparare contro l'ovile dei Trubbiel usando un fucile a canne mozze. Per i carabinieri i PM avrebbero avuto un'altra pistola, una semiautomatica Beretta, un vero e proprio scontro armato che confluì nella successiva inchiesta Revenge. Il sostituto Mario Calabrese ha disposto alla chiusura delle indagini e a breve potrebbe richiedere il rinvio a giudizio. Risultano indagati inoltre il 34enne Giovanni Simone Alario e il 49enne Marco Ferrigno. Vennero intercettati durante colloqui con Antonino Raitano in ospedale. Avrebbero cercato di recuperare la pistola che era stata sottratta dai Trubbia. Entrambi sono sorvegliati speciali. I sette dovranno adesso rispondere dei fatti che gli vengono addebitati.